Potrebbe già esserci nel prossimo weekend un'intesa tra il presidente delle Good Bank Roberto Nicastro e UbiBanca per definire gli aspetti dell'accessione. Il dossier delle quattro banche oggi secondo il Sole 24 Ore sarebbe finito sul tavolo del supervisory board della Banca Centrale Europea a Francoforte che dovrà verificare le modalità di intervento della banca guidata da Victor Massia e porre eventuali paletti che non escluso riguardino anche il fronte del capitale. La banca è ampiamente al di sopra delle soglie previste spiega il Sole 24 Ore tuttavia di questi tempi il patrimonio di vigilanza non è mai abbastanza ed è così che anche Ubi in caso di acquisto delle tre banche potrebbe valutare un rafforzamento comunque limitato e nell'ordine di qualche centinaia di milioni. L'acquisto infatti riguarderebbe tre banche. Cari Ferrara infatti sarebbe l'unico nuovo istituto di credito per il quale non sarebbero arrivate manifestazioni di interesse. Ecco perché l'istituto ferrarese potrebbe andare verso una liquidazione dolce oppure fare ricorso al fondo interbancario. La data del 30 settembre era prevista come ultimo giorno utile per arrivare alla cessione degli istituti di credito ma bisognerà attendere ancora qualche giorno per conoscere il nome dell'acquirente che salvo colpi di scena dovrebbe essere proprio UbiBanca.